Francesco Serra, portiere del Chieti, sei tornato nell'undici iniziale, hai dovuto effettuare un intervento importante proprio nella fine del primo tempo. Questo significa che i tre portieri in forza della società siete tutti alla pari, tutti bravi. Sì, buonasera. Come dico sempre, l'importante è che quando uno entra in campo deve farsi trovare sempre pronto, perché può capitare un'occasione singola così che potrebbe ribaltare completamente la situazione. Quindi ti ringrazio e il complimento. Senti, siete partiti fortissimo con questi due pali in appena 9-10 minuti. Dalla tua porta che cosa hai pensato? Adesso facciamo gol? Beh sì, il primo tempo è stato più a favore nostro come azioni. Era lì, sempre lì, la palla non voleva entrare. Poi il loro portiere, Gurtosi, ha fatto una bellissima partita. È stato bravo anche il secondo tempo su Castellano. Quindi mettici il portiere, mettici quel pizzico di cattiveria che ci manca. In realtà poi la partita è stata più che eccellente da parte della squadra. Il risultato magari ci sta un po' stretto, però alla fine è giusto, perché il loro secondo tempo hanno giocato meglio di noi. Possiamo dire due punti persi che comunque vi mantengono lì in zona playoff, perché in fondo ci sono due punti come prima da recuperare. Due punti persi no, perché alla fine abbiamo sempre guadagnato un punto. Era una squadra difficile, perché è una squadra molto organizzata. Magari non ha quell'elemento troppo estroso, ma sono dei giocatori che hanno fame, hanno voglia di giocare bene. Quindi di queste ultime forse potrebbe essere la più difficile, anche se abbiamo Matese e Monte Rotondo, che sono due che si devono salvare, quindi non ti lasciano nulla. Il campo basso non si sa se la prossima partita vince, perde, quindi se viene da noi potrebbe ancora dover vincere il campionato. Quindi queste partite sono tutte da giocare, bisogna prendere anche quell'unico punto, secondo me è un punto guadagnato. Ti aspetti una conferma anche per la trasferta di domenica prossima a Monte Rotondo? Vediamo. Adesso il mister decide, è ovvio che io voglio giocare, Ciro ha fatto anche bene, ha sostituito benissimo con Son, quindi tutto vediamo, dai. Ovviamente da parte mia vorrei giocare tutte, però... Senti, anche oggi circa 200 tifosi di Norverdi a seguirvi, a incitarvi. Sì, sì, no, infatti la loro calorosità si fa sentire sempre. C'è solo da ringraziarli, anche in queste partite sono sempre vicini e ci incitano sempre fino alla fine.